Questa è la biglietteria del Cinemateatro San Demetrio, venerdì 18 novembre alle ore 21 ritornano i tarli a grande richiesta perché l'altra volta si va a agenda così e tanti sono rimasti fuori venerdì 18 novembre ore 21 i tarli buonasera scusate vorrei 8 biglietti per il 18 novembre 8 più 12 12 più 8, quanti sono i biglietti? venerdì 18 novembre ore 21 i tarli al San Demetrio BASTA Grazie a tutti